Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Commento sotto un video mio e di Edo, che tipo era Maseo e Vogherita coppia migliore del 2022. In primis, non siamo una coppia, in secondo luogo fanculo l'uscita in mangaka. Siamo migliori di voi senza essere una coppia. Più forte! Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo ridi? Hai bisogno di una coda, giusto? Una coda. Ma non in generale? Una coda. La coda del cavallo? Una coda del cavallo. Sì. Ok. Che cazzo ridi? Del cavallo di Erwin di questa statua? Erwin di questa statua. Una coda. Tanto di 80. Ah? Tanto di 80. Sì. Non piangere che papà Edo risolve tutto. Devo parlare di panchechi anche, guarda che non c'è problema, la stanno che io. Ok. Dai, parla un po' di te. Cosa devo dire? Cosa fai? La crisi, se vuoi la crisi che hai avuto? La crisi che ho avuto. Ma è come lo psicologo, la stessa cosa. Però ci pagano loro, quindi è anche lì. Fantastico. Musichetta per un presidente. Ok. Ancora un tanno bannato? Ma poi quanto dura? Tantissimo. Ma hai dei lalert? Che dura non ci fratta anni. Porco Dio. La devine presa sta roba? Ah, finito. L'hai dita a secondi di alert. Non mi hanno ancora bannato. Infatti c'è il mio meme è, vediamo se mi banno. Grazie mille. Perché non si può dire che una ragazza è bella. Vero? Non si può dire che una ragazza è bella se si che gli vuoi ficcare il pisello dentro. Ficcami il pisello dentro, Mario. Unicea, Mario. No, Unicea non c'entra. Questa è stata dura, porca troia. Venti che fatica che ho fatto. Mario voglio tutto... Mario voglio... Non ce la faccio. No, non ce la faccio. Sì, è del buco. Sì, è del... No, non è vero, dov'è? Sì, è questo. Ma va. Sì, 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 fidati. Non è vero, rido. Ah, bellissimo. Bellissimo retroscente. Dai, faccelo vedere. Una donna fatta indipendente. Succa. Gli ocani. Vabbè, andiamo a questo stellato. Andiamo a questo... Incredibile stellato. Pane buono. Pane incredibile. Ah, ex stellato. C'è un ex stellato. Che vergogna. E primo piatto. Questo... Aspetta che c'è anche lì. Stai picchiando? Ma perché ti devo picchiare? Madonna. Ma perché ho questa... Vabbè. È notato che è la seconda volta che alzi la mano e io faccio così? Madonna che schifo. Incredibile. Allora, se vuoi... Madonna che schifo. Madonna che merda. Una schifezza totale. Vai avanti, vai avanti. Voglio vedere. Eccoci qua. Eccoci, eccoci. Aspetta. Da qua possiamo capire. Forse a sinistra. Non ce l'ho ancora. E mi ha scocciato sta cosa di ieri. Cioè mi rendo conto che è ancora presto. Perché è come se io stessi guarendo effettivamente da una settimana. E quindi ci sta. Ok. Però mi scoccio lo stesso perché sono comunque passati tre mesi. Sono passati comunque tre mesi. E non ce l'ho ancora quella... Quella voglia di fare. Quella voglia di... Madonna qua... Mamma mia. E qua volevo morire. E anche Michelle. Volevamo entrambe morire. Dai ci stava! Mi ha fatto come la merda! Mr.Pillo grazie per l'undicesimo. Non stai qua manco da un anno ma non ti vergogni. Ti schifo? Pensavo di più Mr.Pillo. Vergogno. Vergogno. Non so perché ho rinnovato dopo tanto tempo. Ti schifo Mr.Pillo. Ah perché giustamente te la regalavano sempre. No ma non c'è... Vabbè sono stupido. Thank you per l'undicesimo mese. E Mario mi fa... Cioè come per dire... Dai vedi che scherziamo quando ti diamo dalla pettegola. Semplicemente tu vieni a sapere cosa e basta. Bro! Non è un me lo sai. No avete rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo perché poi non me lo vengono a dire le persone che sono ancora più pettegoli di me. Lo giuro. Tra i di Twitch lo accetto. Pettegola no. Qual è il soggetto? C'è la situazione casa o la situazione bojack? È bravo se una persona si sente ferita ha bisogno di tempo per riprendersi. Antares lo capisco. Lo capisco. Ma infatti ripeto non sto dicendo ah che merda. Lo capisco. Lo capisco al cento per cento. Semplicemente che... Io tuttora noto di fare tanta difficoltà quando... Mi accorgo che le persone ovviamente reagiscono a cose in modo diverso. E non è stato tipo una settimana? No al cazzo. Non mi ricordo quanto l'han bannato per quella roba. Ok. Non mi ricordo più. A me hanno bannato trenta giorni. Merda? Sì. E che hai fatto? Quel mese. Ma no non è vero. Secondo me è una grande incompre. Non è niente. Non è niente. Perché comunque se ti serve un culo nel prossimo video... Chi amo? Certo. Alla grande. Dai. Mike Gishbaro. Bomba. Ma... Nel prossimo sì ho bisogno di un culo. Un culo. Uno e basta. Io ce l'ho un culo. Ok. Io un culo ce l'ho. Allora te lo chiedo in prestito. Non so com'è però ce l'ho un culo. Te lo chiedo in prestito allora per il prossimo video. Culo di Eren! Anche. Perché c'è Eren? Io inizialmente mi sono detta boh che l'ho messo in culo letteralmente tutti i secchini degli elementari. Era una persona speciale. Ma a cagare. Grazie Barto per il terzo mese. Ha senso. Secondo me invece ha senso perché... Ascoltatemi. Ha senso perché hai elementare all'asilo o comunque in quei anni di... Ma che cazzo vuoi valutare? Cioè alla fine tutti quanti siamo abbastanza scemini eh. Invece ha senso che... Ma troia? Nietzsche? Eccolo qua! Io! Dietro di voi. Eccolo, 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 eccolo. Avete visto quell'altro coso? Sotto la chat, sì. È sotto la chat. Dietro la chat, ottimo. Sì, quel coso lì. Avete visto? Che cosa sarà secondo voi quel coso? Cos'è? X2 Marco? Cos'è? Cioè abbiamo rivisto anche il VOD e... Il punto dove ci dovrebbe essere la coda è vuoto. Quindi non c'è. Questo pittava. Di coca? È vero? È serio? Fin dall'aggiù? Davvero? È serio? Vai, metti a piangere voi. Vabbè. Il VOD, il punto della coda è vuoto. Ok. Allora te l'hanno rubata. Il VOD. Il VOD? Il VOD. Il VOD. Il VOD. Grazie a tutti